Tanta guagna per tutti ragazzi qui a JosephedGamer e benvenuti in questo nuovo video di Assassin's Creed 4 Black Flag in cui vi mostrerò la posizione delle 16 pietre Maya. Dal ricordo 1 della sequenza 4 sarà possibile iniziare la ricerca delle steli Maya nei pressi delle quali risolvendo dei semplici enigmi verrà svelata la posizione delle pietre Maya. In totale sono 16 e una volta ottenute tutte vi permetteranno di sbloccare gli abiti Maya ovvero un costume speciale per Edward che devierà i proiettili nemici. Vi lascio quindi al video dove vi mostrerò le coordinate precise di dove recarvi per trovare le steli e noi ci sentiamo a fine video per recuperare l'abito Maya. Hai capito? Sì conosco questa sensazione. La provo fin da ragazzo. È come usare tutti i sensi insieme. Ogni uomo è donna su questo. Grazie a tutti i nostri spettatori. Grazie a tutti. Grazie a tutti i nostri spettatori. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti i nostri spettatori. Grazie a tutti i nostri spettatori.